Spazio compiti, manutenzione di aree verdi e aree cani, sottoscritti nei giorni scorsi quattro nuovi patti di collaborazione con i cittadini che hanno manifestato al comune di Monza la propria disponibilità a prendersi cura in forma condivisa di alcuni beni urbani. Salgono così a 33 patti di collaborazione attualmente attivi, 14 sono stati sottoscritti con associazioni o comitati, 10 con gruppi informali e 9 con singoli cittadini attivi, per un totale di circa 2.900 persone coinvolte tra firmatari e beneficiari. Il primo nuovo patto riguarda lo spazio compiti Cederna presso il centro civico Cederna Cantalupo. L'obiettivo è fornire supporto scolastico gratuito ai bambini del quartiere e zone limitrofe frequentanti la scuola primaria. L'attività si svolgerà tutti sabato mattina dalle 9 alle 12 anche nei periodi di chiusura delle scuole. Il secondo patto riguarda l'area cani di via Pelletier nel quartiere Triante, obiettivo creare e mantenere un ambiente sicuro e pulito dove i cittadini possano sguinzagliare i propri cani. Il terzo patto di collaborazione riguarda il giardino della biodiversità e della legalità nell'area verde di via Boiardo, quartiere Regina Pacis, San Donato. Il progetto prevede la creazione di un giardino con la messa a dimora di piante autoctone, sviluppo coordinato di colonie di api e insetti impollinatori, collaborazione con istituti tecnici superiori del territorio e università. L'ultimo patto, infine, si pone l'obiettivo di rendere più accogliente e decoroso l'ingresso del centro civico Cederna Cantalupo, con attività di pulizia e sistemazione delle aiuole già esistenti, abbellimento e manutenzione ordinaria mediante la piantumazione di arbusti e piante stagionali, organizzazione di piccoli eventi aperti alla cittadinanza. Rinnovati, infine, i patti per la pulizia del canale villoresi e dei bibliotecari volontari. Il valore di queste collaborazioni positive è la comunità di intenti finalizzati a prendersi cura in modo attento della nostra città, un obiettivo che volentieri condividiamo con i cittadini più attivi di Monza, ha detto l'assessore alla partecipazione Andreina Fumagalli. I nostri bambini, i nostri ragazzi, faticano a orientarsi e a trovare solidi riferimenti in un mondo che negli ultimi anni ha mostrato il suo aspetto più feroce. Giuseppe Fontana, presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, ne è convinto e aumenta gli stanziamenti per finanziare progetti per i giovani e per l'educazione. 357 mila euro sono pronti a supportare 50 iniziative proposte dalle organizzazioni no profit del territorio, pronti ma non ancora erogati. Le Ollus che hanno vinto i bandi della Fondazione dovranno dimostrare che i loro progetti piacciono alla comunità, raccogliendo da persone, imprese, enti pubblici e privati, donazioni pari al 20% del contributo stanziato dal Fondo. Entro il 31 gennaio 2024 al massimo, chi avrà raccolto tale cifra riceverà anche i fondi dell'Associazione. Le organizzazioni no profit del nostro territorio, interviene Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione, sono vere e proprie antenne in grado di intercettare i bisogni dei più fragili e di chi si trova in condizioni di difficoltà. Hanno proposto progettualità specifiche e mirate, segno della loro reale capacità di intercettare le situazioni più a rischio e di intervenire per cercare di porvi rimedio. Più nel dettaglio i due progetti che hanno risposto al bando Youth Bank, Uno Sguardo al Futuro, e hanno ricevuto esito positivo, riguardano l'orientamento al lavoro. Approvati dalla Fondazione attraverso il bando educare insieme 31 iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali. Altri 17 progetti puntano in modo originale e coinvolgente alla promozione della cultura e dell'arte. Ora sta a tutti noi conoscerli meglio uno per uno sul sito della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e contribuire alla loro realizzazione. Nel territorio della SST Brianza è attiva la Psicologia di Comunità, un servizio strutturato al di fuori del Dipartimento di Salute Mentale, ma parte integrante dell'offerta territoriale. Disponibile nelle sedi di V-Mercate, Giussano, Cesano, Maderno e Lissone, per accedervi bassa l'impegnativa del medico curante con la prescrizione di un colloquio psicologico clinico. Il profilo del potenziale utente e del suo disagio è preciso. Si tratta di soggetti affetti da un disturbo emotivo, ansioso, depressivo, di grado lieve, senza la presenza di una psicopatologia, che non richiedono cioè un intervento specialistico psichiatrico o neuropsichiatrico. Nei nostri percorsi esistenziali possiamo vivere momenti di difficoltà, racconta Luisa Meroni, responsabile della Psicologia di Comunità. Per esempio una crisi adolescenziale, il passaggio alla menopausa o all'andropausa, piuttosto che una separazione, un lutto che non si riesce ad elaborare, che pure possono avere un impatto traumatico. Ecco, il servizio di Psicologia di Comunità nasce non solo per aiutare chi vive una situazione di difficoltà, ma soprattutto per procurare benessere, benessere psicologico. Sette i psicologi impiegati ad oggi presso il servizio, a cui si affiancano due logopedisti e prossimamente ulteriori due psicologi. Da ottobre dello scorso anno a oggi, racconta la psicologa Anastasia Vighi, abbiamo visto 300 persone. Nei gruppi di terapia abbiamo in carico una sessantina di pazienti e nei percorsi di sostegno individuali altrettanti. Nello stesso periodo, aggiunge la psicologa, abbiamo erogato circa 3.000 prestazioni, molte iniziative in programma nei prossimi mesi, tra le quali incontri nelle scuole sui temi della violenza di genere e dell'uso dei social. Da ormai diversi anni, anche sul nostro territorio nazionale, ha fatto la sua comparsa la Takashia japonica, un insetto parassita vegetale di origine asiatica che mette a rischio il patrimonio arboreo. Una presenza facilmente riconoscibile, visti gli ovisacchi di forma circolare, con anelli di colore bianco lunghi da 4 a 5 centimetri, che vanno a urnare i rami degli alberi colpiti. La Takasha japonica è stata accertata anche a Giussano, sui liquidambar di Via d'Azzeglio, sui diversi gelsi dell'area Laghetto, sui carpini del parco Nicholas Green e in altre aree pubbliche. Per questa ragione, l'amministrazione comunale ha avviato un intervento sperimentale per debellare al più presto il parassita. Gli uffici comunali, in collaborazione con il servizio fitosanitario regionale, stanno monitorando la situazione e rimuovendo, ove possibile, i rami eseguendo interventi con i prodotti consigliati. Ma è in corso anche un'analisi con il laboratorio fitopatologico di Minoprio dei campioni di insetto per meglio comprenderne il ciclo biologico e adottare un piano immediato per colpire le neanidi. Nei prossimi mesi sarà eseguito anche un intervento a base di piretro per colpire le forme ciliate che svernando depositeranno le uova per la prima generazione. Tante soluzioni, insomma, per provare a fermare un insetto parassita, che pur non essendo dannoso per persone e animali, rischia di provocare importanti danni alle piante.